Io volevo dire una cosa che è successa al termine della proiezione di quest'oggi che a volte la sincerità non esce fuori nelle situazioni più comuni ma solo nelle situazioni più insolite quando è finita la proiezione è rimasto un microfono acceso e se sentite questo commento oh ma mi ha messo un'angoscia e secondo me l'angoscia era almeno per quel che mi riguarda era l'obiettivo mio da attore, penso anche di chi l'ha scritto, di Stefano, di chi l'ha diretto, di Emanuele e penso anche a degli altri perché attraverso l'angoscia si arriva a pensare perché l'angoscia non la si scrolla da dosso, la si può togliere solo con mandarci dentro, capire da dove nasce questa angoscia e quindi se si vuole capire da dove proviene questo disagio, questo isolamento di questi giovani che sono arrivati a fare quello che abbiamo visto in questo film ci si deve riflettere, ma non solo da parte di chi ha partecipato a questa pellicola anche di chi la vede, tutto qui